benvenuti a cotto e mangiato sono benedetta parodi questa è la mia cucina questa è la mia cucina allora la cucina basta cucineremo anche un piatto molto felibato che si prepara come bauli il pandoro bauli un pezzettino giusto così uguale a questo pervescente molto pesante e pervescente delle uova della farina del taglio di sofferto e del cacao e smettila ripetiamo buongiorno sono benedetta parodi questa è la mia cucina oh mamma mia ma che stai facendo buongiorno sono benedetta parodi questa è la mia cucina queste le mie carrile sono abbinate al mio pullar e cucineremo adesso non ritorniamo e smettila oh mio dio allora ritorniamo alla cucina ok allora prendiamo del pandoro e lo mettiamo qui lo mischiamo e ritorniamo lo scarpulliamo tutto prendiamo delle uova prendiamo delle uova e del cacao e lo giriamo e lo giriamo si ravuglia tutto ecco delle uova oh mio dio 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 delle uova un'altra uova le buttiamo dentro si scarpullia 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 dopo mescolato bene togliete queste scorte e girate e girate ok alla fine però quando siamo pronti lo mettiamo dentro la f состоlla ecco le avete decontrato spero abbiamo siano dimenticato questo ecco ok quando siamo pronti lo mettiamo dentro la cotella qui e poi io vorrei che di gas siamo pronti nel forno ecco il forno E' fatto! E sarà pronto tra tre minuti, ok. Siamo pronti e basta! Tra tre minuti, ecco, sarà pronto. Oh, non è pronto, managgio, non è pronto. Per... per... per perdere un po' di tempo. Adesso... Non è pronto, non è pronto. E' pronto! Oh, è pronto! Wow, prendiamolo, dai, assaggiamolo insieme. Ecco! Adesso assaggiamolo, è venuta la prova finale. E' venuta la prova finale! L'inizio della camera! Ok, assaggiamolo, è pronto. E' sputato!